Ave Maria, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, ave, 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 ave. In particolare per quelli pur già vivendo nel degrado, nella povertà e nell'abbandono familiare. Sono vittime di violenza e sfruttamento. Ti invochiamo sposa di Cristo affinché si metta fine a questa terribile pandemia. Ti chiediamo perdono per quando non apprezziamo il benessere in cui viviamo e ci lamentiamo per le cose futili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetta è il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio che tramite l'annuncio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'ingarnazione del tuo verbo nel grembo virginale di Maria. Ti preghiamo di guidarci fino a te per i meriti della passione e della croce di tuo figlio e nostro Signore Gesù Cristo e per l'intercessione dell'Immacolata sempre Vergine Maria, sua e nostra tenera madre. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Filio e Spirito Santo. Amen. Dio Onipotente, Padre e Filio e Spirito Santo. Amen.